L'atto aziendale dell'ASPE di Cosenza è da rimodulare. Se ne è discusso nelle ultime ore in Commissione Sanità della Regione Carabria, in cui è stato audito il commissario straordinario dell'ASPE, Vincenzo La Regina, che ha ammesso la frettolosità con cui è stato costruito il documento programmatico a causa dei tempi di scadenza. C'è uno sbilanciamento sulla medicina ospedaliera a discapito della medicina del territorio. Non è previsto nulla per le cure domiciliari, non è previsto nulla per le USCA, non è previsto nulla per la telemedicina. Chiesta la riapertura degli ospedali di Trebisacce e di Gariati, l'adeguamento delle unità semplici e complesse nel nuovo distretto sanitario dell'Oionio, da poco accorpato. Grave la situazione invece nell'ospedale di Rossano dopo la realizzazione del reparto Covid. Sala operatoria in stand-by, pochi anestesisti, chirurgia ferma e il pronto soccorso in tilt. Perché l'ultima notizia è che il primario di chirurgia sarebbe assegnato per due giorni a settimana all'ospedale Spock di Paola Cetlaro. Ecco, questa è una cosa inaudita che non possiamo consentire. L'impegno assunto dai vertici aziendali. Il commissario La Regina ha assicurato sulle mie sollecitazioni che provvederà a modificare l'atto azientale.